La quiete dopo la tempesta di follia. Due giorni dopo sono stati rapidamente cancellati all'interno della farmacia Sant'Anna Bellizzi segni della devastazione provocata dalla follia di una persona che in preda ad un raptus e armato di una roncola ha causato danni ingenti all'interno del locale. Due giorni dopo la maggior parte dei segni è stata cancellata ed è tornato il sorriso e la serenità all'interno della farmacia dove i dipendenti hanno ricevuto la solidarietà di tanti clienti. Due giorni dopo con freddezza è chiaro a tutti di aver scansato una tragedia. L'autore del gesto un 28enne è stato arrestato. Quando due mattine fa in evidente stato confusionale è entrato in farmacia si è rivolto alla dottoressa Elisabetta Pellegrino che vista l'arma che aveva tra le mani ha tentato di calmarlo prima di allontanarsi. Questo ragazzo che io oltretutto non ricordo di conoscere è entrato. Era evidentemente in uno stato un po' confusionale e aveva questo attrezzo in mano. Si è avvicinato, mi ha chiesto delle cose, dalle domande ho capito che probabilmente non era in sé e ho cercato di mantenere la calma. Sono andata in magazzino per chiedere al magazzino di chiamare i carabinieri e intanto però lui mi ha seguito. Quando mi sono accorta che era alle nostre spalle siamo usciti di corsa e abbiamo invitato tutti ad uscire. Quindi nell'arco di pochi minuti la farmacia si è svuotata. Lei ha avuto anche la freddezza appunto di tentare un momento di conciliazione, ha capito che era fuori di sé e ha cercato di calmarlo. Sì, ho cercato di non preoccuparsi, insomma che stava bene. Oggi col senno di poi guardando quelle immagini cosa pensa? Allora quelle immagini quando le rivedo mi fanno paura e oggi il mio giorno no perché alla fine la scarica di Danielnia sta terminando. Penso che siamo stati veramente fortunati. Tutta la sequenza e il raptus di follia è stato catturato dalle telecamere presenti nell'esercizio commerciale hanno fatto il giro del web lasciando senza fiato quanti hanno assistito ad una scena da brividi. Io non ero al banco in quel momento, ero seduta in ufficio e ho sentito un botto perché praticamente entrando ha sfasciato la porta e in quel momento ho alzato lo sguardo e ho guardato le telecamere perché ho uno schermo di fronte a me e mi sono resa conto che tutte le persone stavano uscendo piano piano e quindi ho detto qualcosa sta succedendo. Sono uscita fuori non capendo, ho pensato inizialmente una bombola di ossigeno che stesse per esplodere, non lo so, sono attimi in cui non riesce a pensare a niente. Poi ho realizzato perché me lo sono ritrovato accanto e ho visto che aveva quest'arma in mano e niente sono scappata. Dove avete trovato il rifugio? Io non vedendo i miei colleghi perché erano già tutti rifugiati nella pompa di benzina qui a fianco, sono scappata al deposito, un deposito che abbiamo qui in via Manin e lì ho chiesto aiuto ai miei colleghi. Dopo ho visto le immagini di quello che è accaduto, insomma veramente sconcertante, però per fortuna non è accaduto niente, un vero e proprio rapporto di follia. Che idea si fa? Sì, assolutamente sì, penso che non ce l'avesse con nessuno ma magari con la sanità ho pensato in generale e ha visto appunto la farmacia come un luogo da colpire in quel momento. Al fianco dei dipendenti e dei lavoratori questa mattina anche Nicola Pellegrino, titolare della farmacia Sant'Anna, una corsa contro il tempo per riparare i danni provocati per un danno di decine di migliaia di euro, ma era importante riportare serenità e ordine nella farmacia dove un continuo via vai anche questa mattina ha testimoniato solidarietà e vicinanza alla famiglia Pellegrino molto conosciuta nella cittadina di Bellizzi. Stiamo recuperando buona parte dei danni materiali, abbiamo riaperto, ovviamente c'è da sostituire un po' di cose ma ci stiamo lavorando molto alacremente, chiaro che purtroppo per i presenti diciamo come dire lo spavento, il turbamento emotivo ti chiederà ancora un po' di tempo, ma siamo fiduciosi che tutto andrà per il meglio, d'altronde per come si sono svolte le cose è andata bene. Diciamo che il soggetto in questione aveva dei problemi e questi problemi poi sono esplosi nell'occasione, mi dispiace molto per la sua famiglia, per i suoi cari che hanno dovuto assistere a tale devastazione, mi dispiace molto per i miei collaboratori e spero che cose del genere possano non verificarsi più. La parte bella è che avete ricevuto tanta solidarietà dai clienti che ancora stamattina stiamo vedendo, vengono insomma ad esprimere la loro vicinanza. Sì, infatti sia io che mia sorella abbiamo ricevuto davvero tantissimi messaggi, tantissime telefonate a cui è stato praticamente impossibile rispondere a tutti ma lo faremo con calma e una vicinanza da parte dei clienti, dei cittadini di Bellizzi davvero straordinaria, davvero calorosa che riempie davvero il cuore, insomma ci ha dato un'enorme soddisfazione, ci ha aiutato a trovare la forza per rimetterci in sesso e per andare avanti più carichi che mai.